Se l'attore sarà illimitato, la categoria libera è esatturata se non vado a terrazzo e 4 minuti. Qui te lo dico. Sì. Se l'abito non sta a massa, sono un problema. Vero, anche secondo me. O è un rompi. Guarda, guarda, guarda. Hai qualche idea? Beh, non lo so, per fingerlo verso il gesto estremo. Mi ha detto di comprare le scarpe no! E mi dice che è povera, capito? E poi ho fatto il proletto. Andiamo, andiamo, eh? Scusa, il proletario. Io sono di Campania, ora di Campania. Perché si serve? Sta, sta a massa. Tu? Allora, dobbiamo... Però se sta a massa, c'è una storia. Ma ho fatto qualcosa, che a te? Sono Ilaria la sicaria. Sono Ilaria la sicaria. Allora, se mi pagate, io ve l'ammazzo. Ho scoperto che il pareggio di dentro e due millimetri più a dentro di quello di sinistra. No, un figlio, ha detto lunghi. Non voglio sapere particolari. Io non mi voglio mischiare nella vita personale, nel carattere delle persone. Io ammazzo. Io ammazzo e passo. Va bene. Adesso dobbiamo trovare il modo. In assoluto del grivetto. Dunque, non è tanto alto con... Sì, sì. Cioè, grandissimo. Ciao. Ma non è tanto tempo anche per lo spiegare. Sto visto a Firenze l'ultima volta. Ma dai. Bra, 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 bravissimo. Però devo notare qualche consiglio. Non mi avete portato avanti le storie. Non mi avete fatto rinno. Per dire la verità, me lo sapevate anche per l'arte, non lo facevano niente. No, 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 no. E poi vogliamo dire anche la verità e hai rasgolato 3 Gesundheits. Eee, scusate, hai pagato i diritti per il benezzo. Non te ha patto, tu è pagato. Ma c'è il grande atto suono, perché? No, perché mi raccomando, io non voglio quasi nulla, però almeno pagھiamo i diritti per il benezzo. No, 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 no. Scusate, sei così grandissimo che verrebbe ilもう. Se posso dare quasi il consiglio per che non ci renti, dicono. No, 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 no. No, te lo dico, io ho il domenica e sei bravo con la sede, l'introide, l'istitio e il mare, a me da qui mi entra, da qui mi entra. Ma che sei Roberto Roffi? Grazissima! Vieni a guardare il libro, perché ho scritto un libro sul mezzo, mi amore. Io ho fatto Ilaria, Ilaria, volevo cominciare a fare mezzo, se vieni a fare una giratina con me. Allora, posso pensarci io? È grandissima, visto che oggi abbiamo queste porte, eh. Vieni, 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 non vieni, porto un posto appartato, vieni, vieni, vieni. Ah, non viene in sede, eh? Diamo una sede bellissima. A me che ci pulisce poi in sede. È grandissima, grazie. No, perché dopo che abbiamo fatto, lo sconderà a pulire. Vabbè, spesso io, spesso io, Robby, non l'ho istruita, eh. Andrea, Andrea, Andrea. Basta! Allora, è un po' di caldissima. Ilaria, la voglio, la voglio. Una volta morto l'arbitro, c'è un'idea una, si cambia proprio tutto. Le re. Finalmente vestiti, come ti pare il realimento? Ma forse hai fatto un altro spettacolo, tipo, ci si prepara prima un'altra? Sì. Niente di personale, Robby. Se sposti tre... Non c'è la notte! Niente di personale, Robby, mi hanno pagato. E sono una professionista, come forse. Scusa, avete pagato i diritti, per... Scusa, avete pagato i diritti, per... Scusa, avete pagato i diritti, per...